Benvenuti nel nostro nuovo video tutorial. Cappelli da peruviano sono un prodotto da pieno inverno da indossare solamente con temperature molto rigide. La nostra azienda è in grado di fornire questo tipo di cappello completamente personalizzato, con disegno del cliente in una produzione interamente italiana. Cappello peruviano si presenta con una farotta che copre interamente la testa di chi la indostra, con due protuberanze completamente pronunciate all'altezza delle orecchie, al fine di proteggerle. Alla parte inferiore del paro orecchie sono collegate due trecce, prodotte sempre da noi, a cui sono attaccati due pompon. Le trecce dei relativi pompon hanno la funzione di poter fissare questo cappello a chi lo indossa tramite un nodo. Nella parte superiore del cappello, con l'aggiunta di soli 50 centesimi, è possibile inserire il pompon, che conferisce un ulteriore tocco di invernale di natalizio, al nostro berretto. Su tutta la calotta è possibile produrre scritte e loghi inviati dal cliente, utilizzando la tessitura jacquard, tecnica che consente di disegnare le immagini su cappello, utilizzando un intreccio di filati di colori diversi. I nostri cappelli peruliani possono avere un massimo di quattro colori, mentre la parte interna viene realizzata in file che assicura confortevolezza e protezione dal freddo a chi lo indossa. Una volta effettuata la conferma d'ordine, il tempo di attesa per ricevere questo prodotto si aggira intorno alle 10-12 giorni. Per oggi è tutto, arrivederci al prossimo video.